Il trend della mattinata di ieri è stato scandito da una parola chiave, sintetizzata nell'espressione Porta Matera nel 2019, un hashtag, come si dice al tempo dei social media. E Matera ha monopolizzato le conversazioni sulla rete italiana, proprio nel momento in cui i rappresentanti della città e della sua candidatura, a Duce e Verri insieme, da alcuni esponenti del comitato scientifico, stavano raccontando due anni di intenso lavoro, rappresentandoli alla Commissione anche visivamente attraverso un video emozionale realizzato dalla RVM e anche tramite la lunga diretta su TRM Network. Abbiamo raccolto anche noi tweet taggati con Porta Matera nel 2019 in un tweetbook consultabile sul sito di TRM. Intanto in queste ore la Commissione sta valutando se la città dei Sassi farà parte della shortlist delle cinque città italiane da candidare a Capitale Europea della Cultura. L'attesa è palpabile e si trasferisce dalla rete alla città. Attenzione però che Matera è ormai a pieno titolo diventato una città diffusa. Matera è la Basilicata, Matera è da ieri una comunità molto più vasta e i suoi cittadini non sono più solo i residenti. C'è un pezzo di Matera in tutto il mondo e ieri ne abbiamo avuto la prova. Perché dietro ogni singolo messaggio c'era una persona a raccontare la propria esperienza, la propria città, il proprio motivo di orgoglio. E così ci troviamo adesso col fiato sospeso e l'emozione che corre dalle viuzze dei Sassi a quelle dei quartieri periferici e dei borghi sino all'intera Basilicata ad attendere il responso previsto per domani alle 17.30.